Il primo video ho visto Michele, un po' dietro questo sfondo verde, e poi ho detto, vabbè, io voglio conoscere questi ragazzi. Mi ricordo, ero lì, ho preso il telefono, ho chiamato Michele. La CERBA mi ha dato proprio un'idea di strumenti concreti. Cioè la CERBA per me è appunto persone giovani, però competenti, che mi danno subito lo strumento che mi risolve il problema in quel momento. Sono video corti, se arrivo al punto, è anche quello che ti insegnano proprio di qualità. Per il resto io dico sempre forza la CERBA.